Studiare la nostra storia per rafforzare il senso di identità e di appartenenza dei Lucani verso la propria terra. Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale, Folino, nel corso della presentazione del volume scritto dall'antropologo Angelo Lucano Larotonda Riprendiamoci la storia, Dizionario dei Lucani. Il Consiglio farà pervenire una copia del libro a tutte le biblioteche scolastiche e comunali della Regione. Quindi sarà uno strumento utile di consultazione per le scuole, per le biblioteche, ma anche uno stimolo, uno stimolo verso i tanti borghi lucani, dove sono vissute altre personalità che non sono in questo libro. Uno stimolo per studiosi e ricercatori ad andare avanti, ad indagare sulle singole storie che poi fanno la storia della nostra Regione. Anche uno stimolo per i lucani ad amare di più la propria terra? Sì, nella prefazione a questo libro, questo libro io dico proprio questo, oltre Levi, oltre De Martino c'è stata una storia anche culturale di questa Basilicata, di cui dobbiamo andare tutti orgogliosi. C'è una storia della Basilicata oltre la Basilicata. Ci sono tantissime persone nel mondo che sono affermate in tutti i campi, dalla scienza, dalla letteratura, dalla poesia. Dobbiamo recuperare anche queste storie e queste figure.